Era il più alto personaggio della Repubblica Romana e costituiva la meta suprema della carica politica di ogni cittadino dell'antica Roma ed è certamente il più alto personaggio maschile del nostro carnevale e anche il più ambito. Giunga fra noi il valente console impersonato da Claudio Fragno! La corona da loro che ornerà suo capo per tutta la durata del carnevale. E' un perfezionista eh? Attenzione. Il nostro sindaco Guido Ieia consegnerà ora le chiavi del paese simbolo di potere al nuovo console. Ora lui è il padrone di Borso e Marteghe di tutti i territori!